il gatto con gli stivali di perrol un mugnaio morendo non lasciò altra eredità ai suoi tre figliuoli che un mulino un asino e un gatto le divisioni perciò furono presto fatte e non ci fu bisogno di chiamare né il notaio né il procuratore i quali avrebbero finito col mangiarsi anche quel poco che c'era il maggiore si prese il mulino il secondo l'asino e il più giovane dei fratelli dovette accontentarsi del gatto quest'ultimo però non poteva darsi pace di essere stato trattato così male e diceva tra sé i miei fratelli potranno guadagnarsi la vita onestamente mettendosi in società io invece quando avrò mangiato il mio gatto e mi sarò fatto un colletto col suo pelo dovrò rassegnarmi a morire di fame il gatto che aveva compreso ogni cosa pur fingendo di non darsene per inteso disse con aria seria e grave non tormentatevi così padrone procuratemi invece un sacco e un paio di stivali perché io possa camminare tra gli sterpi del bosco e vedrete che non siete stato così sfortunato come credete nell'eredità sebbene il padrone del gatto non facesse molto affidamento su quelle parole tuttavia non disperò di ricevere da lui un po di aiuto nella sua miseria quante volte infatti lo aveva visto fare dei giochi di abilità per prendere i topi ora lasciandosi pensolare e tenendosi sulle zampe posteriori ora nascondendosi nella farina e facendo il morto allorché il gatto ebbe ottenuto ciò che aveva chiesto infilò gli stivali alla brava si pose il sacco sulle spalle tenendo nei cordoni con le due zampe davanti e si diresse verso una riserva di caccia dove si trovavano molti conigli selvatici giunto là mise un po di crusca ed insalata nel sacco e si stese per terra come se fosse morto in attesa che qualche coniglietto giovane e poco esperto degli inganni di questo mondo venisse a cacciarsi in quella trappola spinto dalla voglia di mangiare ciò che il gatto gli aveva astutamente posto dentro si era appena sdraiato che la sua trovata funzionò nel sacco infatti era entrato un coniglietto quel furbacchione di un gatto tirò la svelta ai cordoncini poi prese la bestiolina e la uccise senza misericordia tutto trionfante per la fatta si recò dal re e domandò di parlargli lo fecero salire agli appartamenti di sua maestà e qui il gatto fatto a una grande riverenza al sovrano disse sire accettate questo coniglio di riserva che vi manda il marchese di carabà era questo un nome inventato lì per lì dalla fertile fantasia del nostro gatto di al tuo padrone rispose il re che lo ringrazio e che ho molto gradito il suo presente un'altra volta il gatto andò a nascondersi in mezzo al grano ci dispose sempre il sacco in modo che stesse aperto appena vi entrarono due pernici tirò i cordoncini e le prese tutte e due si recò nuovamente dal re come aveva fatto per il coniglio il sovrano gradì moltissimo anche questo regalo e fece dare una mancia all'insolito servitore il gatto continuò così per due o tre mesi a portare di quando in quando al re la selvaggina che diceva lui aveva cacciato il suo padrone un giorno avendo saputo che il re doveva andare a fare una passeggiata in carrozza lungo le rive del fiume assieme alla figlia che era la più bella principessa del mondo disse al padroncino se badate il mio consiglio la vostra fortuna è fatta andate a fare il bagno nel fiume nel punto che vi indicherò io e poi lasciate fare a me il sedicente marchese di carabà fece quello che il gatto gli aveva consigliato senza sapere quale fosse lo scopo di tutto ciò mentre era nell'acqua il re si trovò a passare da quelle parti il gatto si mise a urlare con quanto fiato aveva in gola aiuto aiuto il marchese di carabà sta annegando a quel grido il re mise fuori la testa dal finestrino riconoscendo il gatto che gli aveva portato tante volte la selvaggina ordinò alle guardie di correre in aiuto del marchese di carabà intanto che il povero marchese veniva ripescato dal fiume il gatto si avvicinò alla carrozza e raccontò al re che mentre il suo padrone era nell'acqua erano sopraggiunti dei ladri che gli poveretto si fosse affannato a gridare al ladro al ladro invece era stato quel furbacchione del gatto a nascondere gli abiti del padrone sotto una grossa pietra il re ordinò immediatamente agli ufficiali addetti al suo guardaroba di andare a prendere uno dei suoi vestiti più belli per il marchese di carabà quando il giovane li ebbe indossati si presentò al re e questi gli usò mille gentilezze quegli abiti gli stavano veramente bene e mettevano in risalto la naturale bellezza dei suoi tratti e l'eleganza della persona tanto che la figlia del re se ne sentì subito attratta bastarono due o tre occhiate un poco tenere per quanto molto rispettose perché la fanciulla se ne innamorasse perdutamente il re riprese la passeggiata interrotta e volle che il giovane salisse sulla carrozza e li accompagnasse il gatto felice di vedere che tutto procedeva secondo il suo disegno andò avanti per conto suo lungo la strada incontrò alcuni contadini che falciavano un prato e disse loro buona gente che falciate l'erba se non dite al re quando passerà di qui che questo prato appartiene al marchese di carabà finirete tagliati a pezzettini come carne da polpette tosto sopraggiunse il re che per l'appunto chiese ai contadini di chi fosse quel prato che stavano falciando e quelli risposero in coro spaventati dalle minacce del gatto del marchese di carabà avete una bella proprietà disse il re al marchese come vedete sire rispose giovane è terra fertile e tutti gli anni mi dà un ottimo raccolto l'astuto gatto che li precedeva sempre incontrò alcuni miei titori e disse loro buona gente che tagliate il grano se non dite che queste messe appartengono al marchese di carabà finirete tagliati a pezzettini come carne da polpette il re che passò di là subito dopo volle sapere di chi fosse tutto quel grano che vedeva è del marchese di carabà risposero i miei titori e il re se ne rallegrò col giovane il gatto che camminava sempre davanti alla carrozza continuava a dire la stessa cosa a tutti quelli che incontrava lungo la strada così il re non finiva più di meravigliarsi delle grandi ricchezze del marchese di carabà finalmente il nostro gatto giunse un bel castello di proprietà di un orco era il più ricco che si fosse mai visto infatti tutte le terre che il re aveva percorso con la carrozza erano di sua proprietà il gatto che aveva avuto l'accortezza di informarsi chi fosse quell'orco e quali prodigi sapesse compiere chiese di potergli parlare dicendo che non aveva voluto passare così vicino al suo castello senza avere l'onore di venirgli a rendere omaggio l'orco lo ricevette con la buona grazia che può avere un orco e lo fece accomodare perché si riposasse allora il gatto prese a dire mi hanno assicurato che avete la capacità di mutarvi in ogni sorta di animali che potete per esempio trasformarvi in un leone oppure in un elefante è vero rispose l'orco con fare brusco e per dimostrarvelo diventerò un leone sotto i vostri occhi il povero gatto si spaventò talmente nel vedersi davanti quella bestia feroce e si rifugiò sulle grondaie non senza qualche difficoltà e col rischio anche di cadere a causa degli stivali che non erano certo adatti per camminare sulle tegole dopo un po avendo visto che l'orco aveva ripreso le sue solite sembianze si decise a scendere e ammise di aver avuto molta paura mi hanno anche assicurato ripresa dire il gatto ma io ostento a crederci che avete la facoltà di trasformarvi anche in un animale piccolissimo come la talpa e il topo vi confesso però che tutto ciò mi sembra davvero impossibile impossibile disse l'orco ora vedrete così dicendo si mutò in un topolino e prese a correre sul pavimento della stanza il gatto appena lo vide si gettò come un lampo su di lui e ne fece un boccone in quel mentre il re che nel passare di là aveva notato il magnifico castello dell'orco volle entrare per visitarlo il gatto udendo il rumore della carrozza che attraversava il ponte elevatoio corse incontro il re e gli disse vostra maestà sia la benvenuta nel castello del marchese di carabà ma come marchese esclamò il re questo castello è dunque vostro non ho mai visto niente di più bello che eleganza ed armonia di linee quale grandiosità e che splendidi giardini visitiamo nell'interno se non vi dispiace il marchese offrì la mano alla giovane principessa e insieme seguirono il re il quale si era avviato per primo entrarono in una grande sala dove trovarono pronta una magnifica colazione che l'orco aveva fatto preparare per i suoi amici questi avrebbero dovuto venire a trovarlo proprio quel giorno ma poi non osarono farlo avendo saputo che era giunto il re il sovrano conquistato dalle buone maniere del marchese di carabà che dire poi della figlia che ne era innamoratissima e vedendo la vastità dei suoi possedimenti gli disse dopo aver bevuto cinque o sei bicchieri di vino dipende soltanto da voi marchese se volete diventare mio genero il marchese si profuse in riverenze accettò volentieri l'onore che il re gli faceva e il giorno stesso sposò la principessa naturalmente il gatto rimase con gli sposi ebbe un bel cuscino di seta accanto al fuoco nella sala del trono durante l'inverno ed una bella cuccetta sotto il pergolato d'estate il figlio del mugnaio diventò dunque il marito della principessa ma siccome era un giovane onesto e sincero non volle continuare ad ingannare la moglie ed il re raccontò come erano andate veramente le cose spiegò per filo e per segno quello che aveva architettato il gatto dalla prima fortunata caccia nel bosco al colpo maestro dell'uccisione dell'orco e alla conquista del castello liberato da questo peso visse felice con la sua sposa ed ebbe tanti figliuoli che giocarono allegramente col gatto per nulla meravigliati di vedergli addosso gli stivali ed ascoltarono anch'essi divertendosi un mondo la storia del cattivo orco trasformato in topino e divorato dal gatto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.